Ieri prosecuzione di Consiglio Comunale a San Giovanni la punta per discutere le mozioni presentate da Giussi Rannone del Movimento 5 Stelle. La maggioranza del sindaco Nino Bellia concede tra virgolette all'esponente pentastellata solo quella sul wifi gratuito. Per il resto su compostaggio, compattatori e guardi ambientali la maggioranza punta sul fatto che sono già temi che l'amministrazione sta affrontando e quindi boccia le mozioni della Rannone in un momento politico particolare dopo la tormentata vicenda della diffida sulla potatura a trappeto. Una nuova seduta consigliare è stata convocata per lunedì da affrontare altre cinque mozioni. L'installazione di dispositivi, dossi artificiali per ridurre la velocità che sui dei veicoli che attraversano via Assisi, quella sul baratto amministrativo, poi la revisione del regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti, gli interventi straordinarie per le attrezzature nei cimiteri e gli interventi straordinari sugli impianti sportivi nelle scuole.